troi il treno ciao troi ti stai divertendo caspita troi che posto è quello hai un'idea beh forse dovremmo andare a dare un'occhiata ma come ci arriveremo troi vuoi completare il ponte e installarci le rotaie grande idea troi ma come lo farai ciao teddy come stai oggi teddy troi avrebbe bisogno di costruire un ponte per attraversare un fiume ti viene in mente qualcosa che gli permetterebbe di farlo fantastico allora no Oh Oh Wow Teddy Questa trasformazione è incredibile Hai trasformato Troy In un treno di costruzione È tutto a posto adesso? Grande Allora andiamo Troy Bene Troy Al lavoro Innanzitutto dobbiamo posare la struttura del ponte Ottimo Troy Ora mettiamo le travi Guarda Troy Il ponte è quasi finito Ora posiamo le rotaie e fissiamole Beh hai ragione Troy Dovremmo rinforzare il ponte prima Altrimenti sarebbe troppo rischioso attraversarlo Grande Ora sì che possiamo posare le rotaie Cosa dobbiamo fare dopo? Avvitare i binari alle travi Ovviamente Incredibile Troi Hai costruito un ponte E guarda Ecco la città che volevi visitare Train town Ciao Troy Arrivederci alla prossima E ciao anche a te Teddy Grazie per l'aiuto Troi il treno Wow Train town Sembra il paese delle meraviglie invernale oggi E sembra proprio che ognuno degli abitanti ci stia mettendo del suo per renderla favolosa Val cappello Troy Come sei carina Tina Dove state andando di bello? A una festa di pattinaggio sul lago Meraviglioso Oh wow Non è meraviglioso il lago così Tony vuoi andare per primo sulla pista di ghiaccio? Tony Aspetta Il lago non è ghiacciato Hai ragione Taylor Anche se è nevicato parecchio non è abbastanza freddo perché si ghiacci la parte superiore del lago Ma che peccato Davvero Troy? Pensi che Teddy potrebbe essere in grado di fare qualcosa? Speriamo che tu abbia ragione Ehi là Teddy Quello sembra un gioco veramente molto divertente Oh quello deve essere Troy E' venuto per vedere se lo puoi aiutare a ghiacciare il lago Dunque questo è il problema Teddy Ci doveva essere una festa di pattinaggio al lago però non c'è ghiaccio su cui pattinare Tu sai sempre cosa fare Teddy che cos'è quello? Oh per formare un blocco di ghiaccio gigante Eccellente Rimani fermo Troy c'è un'enorme macchina del ghiaccio che sta arrivando proprio verso di te Qual è la prossima mossa Teddy? Ma certo ci serve un po' di acqua per trasformarla in ghiaccio Questo potrebbe essere un po' freddino Troy Non preoccuparti Troy Molto presto ti riscalderai di nuovo Aspetta Troy Sembra che Teddy abbia dimenticato qualcosa Teddy c'è un altro attrezzo che potrebbe servire a Troy A che cosa potrebbe servire quello? Oh bene Immagino che molto presto lo scopriremo Troy è tempo di ritornare al lago Ciao Teddy e grazie Troy il treno pista da ghiaccio è sulla strada del ritorno gente Che cosa sta facendo Troy? Ha portato con sé un enorme blocco di ghiaccio e ora si accinge a buttarlo nel lago Eccolo che arriva Wow ha funzionato molto molto velocemente Ok ok Tony ora ti puoi fare un viaggetto sul ghiaccio Troppo dislivello meglio ritornare indietro Ehi Troy che ne dici di usare quello strano aggeggio che ti ha dato Teddy Deve servire per appianare la parte superiore del ghiaccio Ah così è meglio adesso la superficie è molto più piatta Bel lavoro Troy sembra proprio che tu sia riuscito a ripristinare il party di pattinaggio sul ghiaccio Andiamo pattinatori Passate gran bei momenti tutti quanti ci vediamo la prossima volta Troi il tren Buongiorno mi sembri sicuramente eccitato per il Natale Troi Oh Adoro questa canzone Wow l'albero è sicuramente bellissimo quest'anno Taylor vuole un nuovo treno di gomme per Natale e tu a cosa speri Troi? Tutti i tuoi amici a celebrare il Natale insieme a te che desiderio fantastico Troi ma come facciamo a farlo diventare realtà? oh Teddy Troi deve prepararsi per il Natale molto in fretta riesci a dargli una mano meraviglioso e allora cominciamo oh Oh! 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 Wow! Troy, Teddy ti ha trasformato in un elfo di Natale! Stai benissimo! Oh! Bella pensata, Teddy! Ci serviranno queste luci per l'albero di Natale! Oh! Oh! Ci vediamo più tardi, Teddy! Oh! Benissimo, Troy! Facciamo arrivare lo spirito natalizio nel magazzino! Oh! Oh, wow! È magico! Oh! Oh! Quelle luci scintillanti sono fantastiche! Oh! Oh! Ed ecco il tocco finale! Oh! Gran bel lavoro, Troy! Sembra ancora più bello di quello a 30! Oh! Adesso ci servono solamente un po' di regali! Oh! Oh! Oh cielo! Guarda tutti quei regali! Ognuno si sta preparando per essere così felice! Oh! Oh, Troy! È finita la carta! Oh! Oh, oh! E adesso cosa farai? Oh! Oh! Come sempre, Teddy ha pensato un po' di carta extra per i regali! Oh! 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 che facciamo bene sembra che tu abbia preparato tutto quanto è troi o volevi che i tuoi amici fossero tutti quanti insieme a te per natale vero ciao teddy il cappello da elfo concederà a troi uno speciale desiderio natalizio wow ma è fantastico penso che stia funzionando troi hai ottenuto il tuo desiderio natalizio buon natale a tutti quanti ci vediamo presto ciao ciao ciao